Il grembiure della discordia. La Francia si divide sull'uniforme scolastica di cui parte del paese chiede l'obbligatorietà per abbattere le diseguaglianze sociali e soprattutto per eliminare il problema dei simboli religiosi in classe. Una reportage di Danilo Ceccarelli da Parigi sull'ultimo panorama. Il mio grembiure e il mio fiocco mi ricordo veramente con tanta nostalgia. Furono tra le prime regolette che dovetti con affetto imparare. Poche regole chiare ci salverranno tutti. Grazie a tutti.